Ti pensi solo al gioco e basta, quindi tutti gli altri problemi che in calcio si sia da mangiare, che non ci sia, te ne frega a me di niente. Antonio Bobini, 62 anni, aretino, da poco uscito dal gioco d'azzardo, un problema che viveva lui e la sua famiglia da ormai sette anni. Ultimamente giocavo per passare il tempo, perché siccome a casa io non ci stavo bene, allora andavo a giocare e continuavo a giocare due ore, tre ore. Il problema è sempre quello, diventi nervoso, quindi non ragioni più. Ti rilassi solo davanti a quel meccanismo che c'è e basta. Il fondo lo tocca in una domenica qualunque durante i festeggiamenti del compleanno della figlia minore. Una violenta lite in famiglia diventa lo stimolo per iniziare un vero percorso di recupero. Ho preso uno schiaffo e quello mi ha fatto più male di tutto il resto. Io direi che Antonio era più intossicato di rabbia, di tensione e di ansia. E il gioco diventava un rifugio che lo portava a isolarsi dal resto della famiglia. Qui c'è stato un atto coraggioso di Antonio, ma di tutta la famiglia, perché non solo Antonio si è resta disponibile a smettere di giocare, ma c'è una famiglia che si è resta disponibile a modificare le loro relazioni, i loro modi di comunicare. Io ho ritrovato il babbo scherzoso, i miei figli hanno ritrovato il nonno che li porta alla domenica a mangiare il gelato. Si può uscire nei giusti metodi, da soli diventa difficile, io credo impossibile.